Poi, subito il tramonto, subito la tragedia del Golgotha, e la campana lo annuncia morto, ucciso. Le potenze della terra frenano, si ribellano, quasi ci cridano che Cristo nasce tra due animali e muore tra due ladroni. Perché ci arrendiamo al suo amore. Ma ecco come la stalla diventa la culla della speranza, il Calvario e la Croce diventano la culla della risurrezione, della vita, del trionfo. Cristo risorge e sale al cielo, lasciando gli uomini redenti, riconciliati nella pace. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Buon Natale a tutti. Il benedizio dei omnipotenti, patris, il figlio, il spirito sempre. Il peccato entrò nel mondo. E l'uomo si ribellò a Dio, ma fu condanna, disperazione e morte. Poi, apparve un segno grandioso in cielo, una donna vestita di sole, con la lunna sotto i piedi e sul capo dodici stelle. Nascerà per voi un bambino che sarà chiamato Emanuele. Dio con noi. Gesù si annuncia come tutti. Con il pianto, che è il primo canto e la prima preghiera dell'uomo.